La crisi di governo irrompe in un'estate segnata già dalla recrudescenza del covid, da una vera e propria emergenza economica, dalla guerra in Ucraina. Non mancheranno certi riflessi anche sulla politica regionale e su alcune grandi scelte che investono la Toscana. Tra le decisioni più attese e controverse però c'è quella sul rigassificatore di Piombino. L'accordo adesso c'è anche se è maturato dopo la seduta del Consiglio regionale. Restano forti le resistenze locali mentre l'orizzonte temporale adesso si riduce a tre anni. Si conclude anche il lavoro della Commissione d'inchiesta sulle infiltrazioni mafiose nata dopo le vicende giudiziarie che hanno coinvolto il distretto del cuoio e che riguardano lo smaltimento delle scorie della produzione industriale, appunto il CEU. Due relazioni diverse, un emendamento contestato, diverse proposte, stavolta condivise, per fermare le mafie. Al via gli stati generali della cultura saranno il frutto della collaborazione tra Consiglio e Giunta, tutte le forze politiche del Consiglio. Obiettivo rivitalizzare un settore tra i più colpiti, certamente dalla pandemia. Quella di giovedì, all'indomani dell'ultima seduta del Consiglio regionale, è stata una giornata infinita per la politica nazionale. Si è aperta una crisi di governo con sviluppi ancora imprevedibili. Non ci sono tutte le reazioni adesso dal Consiglio regionale, ma la questione, certo, è al centro dell'attenzione di tutti i gruppi politici. Nel frattempo continua l'emergenza siccità, con le temperature che negli ultimi giorni sono ancora di più salite e ancora senza pioggia. Colpisce in particolare alcune zone costiere della nostra regione, ma il problema è molto serio e diffuso su tutti i territori. Contro le nuove varianti del Covid, che provocano numeri record di contagi, intanto la Toscana, tra le prime, ha aperto la possibilità della quarta dose per over 60 e fragili. Molti si stanno prenotando. Infine, un'altra grande questione collegata alla guerra in corso, c'è una grave crisi energetica. Gli approvvigionamenti passano anche da due navi gasiere e una di esse andrà a Piombino. Almeno questo è l'accordo di mercoledì sera. L'intesa c'è, la nave di Snam dunque andrà a Piombino, ma vi resterà per tre anni al massimo. E il presidente Gianni, che è anche commissario per l'opera al pari del suo collega Bonaccini per l'installazione di Ravenna, adesso canta vittoria. L'accordo è stato siglato a Roma con i ministri Cingolani e Gelmini e con l'amministratore delegato di Snam. Ma le polemiche non si placano ed è forte ancora la resistenza dei sindaci del comprensorio e di alcuni comitati di cittadini, con il sostegno politico delle opposizioni che avevano riproposto l'argomento in aula martedì scorso. Dobbiamo affrontare la questione in maniera diversa. Gianni, ascolti il territorio di Piombino, ascolti il suo partito a Piombino, ascolti il suo partito rispetto a quello che gli viene detto dal consigliere regionale del suo partito di quel territorio. Noi siamo convinti che a Piombino il rigassificatore non ci deve andare né tre anni né tre giorni. Gianni risponde a questa domanda prima con una considerazione politica. Chiede a me qual è il cronoprogramma. In questi giorni sui giornali, su più giornali, è apparso che la sottosegretaria della Lega, Gava, ha pubblicato quello che è il suo cronoprogramma, che prevede che a marzo la nave di rigassificazione sarà già nel porto di Piombino. Delle due ed una. O si separino, perché nello stesso partito dicono due cose totalmente diverse, o altrimenti si incontrino. Poi, qualche ora prima della formalizzazione dell'intesa di Roma, ribadisce quella che secondo lui era la vera discriminante, contro la richiesta di Snam di chiedere la banchina per 25 anni. Formulazione per me inaccettabile, che ho rimandato al mittente, perché ho detto che 25 anni nella banchina più importante della Darsena Nord e del porto di Piombino, quella nave 25 anni non ci può stare. Ci può stare al massimo due o tre anni per poter sopperire a questo periodo, il periodo di maggiore drammaticità, di emergenza da un punto di vista del gas, per in questi due o tre anni costruire una ulteriore piattaforma offshore, come c'è a Livorno, come c'è nelle altre due piattaforme che ci sono in Italia, cioè a 10-12 km dalla riva, e lì rendere stabile per il corso del periodo che arriva a 25 anni la vita del rigassificatore. Gianni però non convince le opposizioni, anche se alcuni passaggi vengono apprezzati anche da chi non condivide la scelta del governo. Continueranno le proteste, ce ne sono molte altre già in programma, e anche il limite dei tre anni non viene ritenuto soddisfacente. Noi continuiamo a pensare a quello che pensiamo dal primo giorno, cioè che una città come Piombino, che già tanto ha dato e ha pagato alla crisi industriale, alla crisi economica, alla crisi pandemica, e che oggi cerca di ripartire con quella risorsa che ha a disposizione, la prima delle risorse che ha a disposizione, cioè mare e turismo, non possa subire l'onta di una nave petroliera, metaniera, di 300 metri di lunghezza, ormeggiata per tre anni nel porto di Piombino. Noi siamo assolutamente in linea con la battaglia che il sindaco di Piombino, Ferrari, sta facendo per evitare questo scempio, ci fa piacere, questo sì, che il governatore Gianni, da essere un ultra del progetto rigassificatore a Piombino, stia ponendo delle criticità. Che finalmente si chiude il cerchio in Consiglio regionale, ma non con una relazione unica e condivisa. I fatti, l'indagine della magistratura viene alla luce nella primavera del 2021 e scuote la politica regionale. I rapporti tra vecchia e nuova maggioranza è giunta, soprattutto crea incertezza sulla reale portata dell'inquinamento. Infine, ribadisce l'esistenza di fitti intrecci tra mafie e una parte dell'imprenditoria locale, con la connivenza talvolta delle istituzioni. La commissione regionale di inchiesta nasce dopo un lungo braccio di ferro. La guida è una consigliera d'opposizione, Elena Maini, ma il compito di questa commissione è soprattutto quello di analizzare le infiltrazioni mafiose e suggerire modi concreti ed efficaci per fronteggiarle. L'accordo non si trova stavolta e come è accaduto in altre occasioni, particolarmente spinose, ci sono due relazioni. La prima delle opposizioni la illustra la stessa presidente Maini, che punta soprattutto ad evidenziare le riforme che servono adesso per il controllo dei rifiuti, vera fonte di ricchezza per la criminalità organizzata. Ancora diverse domande senza risposta, però ho voluto guardare avanti e quindi ho voluto proporre una serie di attività, una serie di interventi dal punto di vista amministrativo per cercare di evitare che tutto ciò si possa ripetere. All'interno dei nostri ordini del giorno chiediamo il potenziamento di ARPAT, chiediamo una commissione che è già la commissione esistente di garanzia e controllo che possa occuparsi anche del tema della legalità, chiediamo il potenziamento del fondo anti-usura, chiediamo poi che quando si presentano emendamenti in Consiglio regionale, soprattutto su tematiche delicate, come quella dei rifiuti, ci siano i tecnici della Regione a garantire la procedura della presentazione dell'emendamento e ciò che sta scritto al suo interno e poi chiediamo che nel momento in cui ci siano delle impugnative di fronte del Governo su una serie di leggi votate dal Consiglio regionale, che sia lo stesso Consiglio regionale a decidere se impugnare oppure no tale legge. Il fatto più controverso è quel famoso emendamento del maggio del 2020 che passò in sordina senza discussione e che avrebbe potuto alleggerire i controlli, ma che poi, come sappiamo, è stato ritirato. Sì, le posizioni sono diverse, sono diverse dal giorno in cui è scoppiata l'inchiesta, perché noi continuiamo a sostenere che in quell'emendamento, e lo ha detto anche un avvocato che è della Regione Toscana, è stato nominato dalla Regione Toscana, l'avvocato Ciari, fosse e lo è tuttora un chiaro tentativo lobbistico per avvantaggiare qualcuno rispetto a qualcun altro. Accuse queste che la maggioranza li spinge con forza anche in questo atto finale del confronto. Non c'è nessun riscontro che quell'emendamento abbia avuto una conseguenza rispetto all'indagine del Cheo. Questo credo che era l'intento che voleva dimostrare la minoranza, che c'era una correlazione tra l'emendamento presentato e l'indagine del Cheo. Io ricordo solamente due date. L'indagine è partita da Arpat nel 2017, l'emendamento è stato approvato nel 2020, mai applicato perché non è stato necessario applicarlo. In quel momento non c'erano i tempi tecnici per tornare in aula per modificare la legge, perché eravamo a fine legislatura e questo è il motivo per cui la Giunta si è opposta rispetto al ricorso che veniva fatto. Perché abbiamo rimosso l'emendamento? Abbiamo rimosso l'emendamento perché comunque su questa legge, che è davvero innovativa, unica in Italia, che gestisce il quadro normativo che consente la gestione mista degli impianti, pendeva un potenziale ricorso da parte del Consiglio di Stato. Non siamo d'accordo sul Cheo, non perché non è successo. È successo ma non spetta al Consiglio regionale andare a inserirsi in un'indagine di una magistratura. Noi dobbiamo solo verificare che le regole che abbiamo dettato consentano di essere tanto difficile penetrare in Toscana. Il Cheo è una cosa che certo lo comprendiamo che la minoranza ha dovuto provare a rimettere all'ordine del giorno l'idea che l'emendamento Cheo, colletti bianchi, politici, dirigenti e funzionari di questa regione fossero la stessa cosa. Non è così. Il Cheo è partito l'indagine del 2017 e l'emendamento del 2020 mai applicato. Questa è la nostra risposta. Il dibattito naturalmente coinvolge tutti i consigliari, tutti i gruppi e divide maggioranza e opposizione. Il documento presentato da Lucia De Robertis, che è anche la presidente della Commissione Territorio e Ambiente, riceve il sostegno di PD e Italia Viva. Sono 22 i voti a favore. C'è un tema delicato che emerge dalla discussione, quella delle infiltrazioni mafiose che ci sono ovviamente in Toscana con il resto d'Italia e serve per contrastarle una politica che sia forte. Quindi bene che il Consiglio regionale abbia affrontato questa questione, che abbia approfondito, che abbia reso trasparente l'operato della nostra regione e nel rendere trasparente l'operato della nostra regione è ammesso, nei condizioni di tutti i consiglieri, di approfondire nei dettagli quello che è stata una questione molto importante, quella del Cheo e non soltanto quello che può essere in tutte le questioni che riguardano gli appalti pubblici soprattutto se pensiamo che arriveranno tante risorse rispetto al PNRR è opportuno e doveroso dotarsi di anticorpi che consentano alle pubbliche amministrazioni di lavorare con tranquillità e alle aziende sane di poter lavorare nel massimo della trasparenza nella nostra regione. Vengono approvate anche tre dei quattro atti delle opposizioni. Il primo, a firma di Irene Galletti, capogruppo del Movimento 5 Stelle, prevede un supporto tecnico al lavoro delle commissioni. E questo comunque è il suo giudizio politico sulle conclusioni del lavoro della commissione. La relazione che abbiamo presentato come opposizioni si è tenuta il più lontano possibile nel rispetto di tutte le persone coinvolte dalla questione giudiziaria ma non ha potuto fare a meno di un giudizio politico molto severo che è stato poi il medesimo che Rosi Bindi, certamente non una persona qualunque nel panorama politico ha espresso nei confronti della politica che troppo spesso si autoassolve ed è velocissima nel cercare delle giustificazioni e delle coperture anche alle sue azioni che vengono pubblicamente considerate veramente nemiche di quello che è l'onore e la disciplina che ci dovrebbero caratterizzare. Questo credo che sia il messaggio principale che è emerso da questa commissione che purtroppo non potrà dare altre risposte per dei comportamenti da parte della Giunta che non sono stati collaborativi spesso anticipava delle proposte che noi formulavamo all'interno delle commissioni secretate di cui comunque loro però evidentemente avevano accesso c'è stata poca disponibilità ad accogliere istanze che già negli anni scorsi con la commissione d'inchiesta su rifiuti e discariche il Movimento 5 Stelle aveva presentato e anche le associazioni in difesa della legalità avevano più volte presentato. Sì anche a due documenti illustrati dalla consigliera Meini uno sul potenziamento di ARPAT l'altro sulla possibilità di trasferire dati e analisi alla commissione ambiente non solo c'è l'impegno evidentemente approvato da tutti di informare in ogni caso i sindaci dei territori coinvolti da episodi di inquinamento viene respinto invece l'ordine del giorno di Fratelli d'Italia che puntava ad attribuire alla commissione controllo specifiche funzioni di monitoraggio e verifica sulle infiltrazioni mafiose e sulla tutela della legalità ecco il capogruppo di Fratelli d'Italia sulla conclusione almeno per ora di questa vicenda politica penso a quella dell'Empolese con la strada regionale 429 penso a quella stessa del comparto del quadro di Santa Croce che ancora attendono delle risposte perché sulla famosa strada 429 i carotaggi sono partiti da pochissimo non ci sono ancora risposte e qui stiamo parlando dei cittadini che ancora non sanno se vivono, mangiano, camminano, fanno crescere i propri figli su un terreno sopra dei veleni o su un terreno sano io credo che la credibilità della politica passi nel dare una risposta certa, che può essere anche una risposta brutta ma certa, ai cittadini e il fatto che la Presidente della commissione Cheu la commissione di indagine sulle infiltrazioni mafiose più che Cheu oggi in aula dica che vi sono tantissime domande a cui ancora non c'è risposta me lascia molto basito da questo punto di vista ed ascoltare invece la maggioranza che con nonchalance che ha una relazione che dimostrerebbe che la Toscana è la terra dei sogni in cui la criminalità organizzata non attecchisce e secondo me è una fotografia di una terra che purtroppo non corrisponde più alla realtà sulla stessa linea molto critica è infine il capogruppo di Forza Italia che evidentemente non condivide l'operato della maggioranza continueremo a chiedere ancora verità continueremo ancora a chiedere giustizia per quei territori che sono stati vittime del Cheu sulle strade per quei territori che hanno visto gli sversamenti in maniera inopportuna, inappropriata e anche in maniera illegale del Cheu sui territori chiederemo ancora bonifiche chiederemo giustizia chiederemo verità continueremo con la nostra azione lo abbiamo fatto come Forza Italia in questi due giorni partendo sempre da quello che è stato il nostro faro il presupposto per noi sono tutti innocenti fino al terzo grado di giudizio non abbiamo certo fatto una battaglia in consiglio regionale con le intercettazioni telefoniche usando le intercettazioni telefoniche ma siamo rimasti ai fatti partendo dai fatti abbiamo fatto la nostra analisi partendo dai fatti abbiamo tirato le nostre conclusioni partendo dai fatti chiederemo di continuare ancora soprattutto su Dufeloni il primo è bonificare finalmente i siti che sono ancora oggi inquinati il secondo è continuare nella ricerca della verità che per noi rimane un presupposto essenziale una interrogazione presentata dalla Lega riguardava il destino dei lavoratori del Monte dei Paschi più in generale le sorti della banca senese abbiamo chiesto al Governatore di monitorare concretamente e puntualmente l'attuazione del piano industriale 2022-2026 del MPS questo perché si va incontro a un maxi essodo di 3500 dipendenti tutto questo dovrebbe avvenire entro novembre per non perdere alcuni vantaggi che hanno come ad esempio i prevenzionamenti fino a 7 anni siamo sinceramente preoccupati perché abbiamo dato tanto in termini di posti di lavoro anche in Toscana e non vorremmo che vi siano perdita di garanzie per quanto riguarda i lavoratori e che vi sia ulteriore aggravio per gli stessi dipendenti la questione del personale è certo quella che preoccupa di più per il resto la banca oggi appare in buona salute confermando il suo ruolo di grande banca nazionale ancorata però in Toscana, a Siena in particolare questa battaglia ha garantito il mantenimento a Siena della sede, del marchio, della direzione del Monte dei Paschi e il nuovo amministratore delegato sta procedendo nel rafforzamento del Monte dei Paschi sotto gli indirizzi del Ministro Franco che ha avuto il coraggio di ripensare a quella che era un'operazione di inglobamento del Monte dei Paschi in unicredit addirittura agevolata fino a un certo punto da 8 miliardi che lo Stato avrebbe dato meno male si è ripensato e oggi certo Monte dei Paschi dovrà chiudere qualche filiale dovrà diciamo così sostenere il percorso più accelerato per il pensionamento di maestranze ma niente di traumatico e invece il mantenimento in vita di quella che oggi è la banca simbolo in questa regione, la regione toscana e il Monte dei Paschi di Siena che vogliamo fare qualsiasi considerazione la possiamo fare ma è la terza banca italiana Ci resta poco tempo ed è il tempo della cultura con un'altra grande iniziativa di partecipazione che raccoglie sia le forze del Consiglio che quelle della Giunta via gli stati generali della cultura con quale obiettivo concreto? Rivedremo le leggi la manutenzione della legge 21 che ha fatto il suo tempo allo stesso modo la legge sull'Arbonus del 2008 mi sembra o 2012, con più 8 anni ha bisogno di essere manutenuta e rivista insieme a questo c'è dare risposta ad un settore che ha fortemente patito durante la pandemia il settore della cultura e i lavoratori della cultura hanno sofferto quanto e forse più di altri lavoratori scontando anche condizioni strutturali di maggiore fragilità, maggiore precarietà maggiore instabilità contratti di lavoro meno chiari inquadramenti non definiti insomma un settore che ha bisogno di strategia oltretutto in una regione come la Toscana che nei suoi beni culturali nella loro valorizzazione nel clima in generale che la cultura genera in questo territorio ha una delle sue caratteristiche principali e uno dei suoi punti di forza ci sembra davvero necessario far diventare tutto questo il perno di una nuova strategia di sviluppo per il territorio Far contare la cultura è lo slogan azzeccato che accompagna l'avvio di questo percorso su cui maggioranza e posizioni intendono lavorare bene insieme troppo importante è questo settore per la nostra economia per la nostra comunità regionale È un momento importante direi di riflessione sulla cultura ne avevamo bisogno perché la Toscana in questo settore credo che sia non dico all'avanguardia ma insomma c'è cultura da tutte le parti in tutti i nostri territori quindi con la Presidente Giacchi che si è data un grande affare insieme agli uffici siamo arrivati ad oggi aiutati da IRPET e da Fondazione Sistema Toscana per cercare di capire lo stato dell'arte in Toscana delle associazioni culturali e anche dei lavoratori del mondo della cultura perché molte volte alcuni di loro non sanno nemmeno di lavorare per la cultura dopo poi faremo una riflessione e cercheremo di fare delle cose concrete su tutti i territori perché la cultura può essere anche dopo poi il periodo del Covid un diciamo un momento per ripartire anche economicamente Noi ci fermiamo qui nei nostri telegiornali avete già visto ampiamente tutte le presentazioni delle appuntamenti che qui a Palazzo del Pegaso hanno trovato in qualche modo casa in questi giorni appuntamento con Regionando a vederdì prossimo 22 luglio alle 21.15 sul canale 15 di Telegram Ducato in tutta la Toscana a testa di Tregram Ducato a testa di Tregram Ducato